Quella che vedete è Alessia Piperno, la ragazza romana di 30 anni arrestata a Teheran. Questo è uno dei suoi ultimi post su Instagram, moschee e mercati da Shiraz. Poi è scomparsa dai radar. La farnesina lavora al dossier ed è in contatto con la famiglia della giovane. I genitori, titolari di una libreria a Roma Tuscolano, in queste ore mantengono il massimo riservo. Domenica hanno ricevuto la telefonata che un genitore non vorrebbe mai ricevere. Aiutatemi, sto bene ma ho paura di non uscirne, ha detto Alessia Piperno, telefonando da un carcere della capitale iraniana, secondo il racconto del padre. Alessia sarebbe stata arrestata durante la festa per il suo trentesimo compleanno mercoledì scorso. Da quel giorno non si sono più avute sue notizie. Lei, travel blogger e segretaria al lavoro da remoto, da sei anni girava il mondo, ignoti al momento le cause del suo arresto. Nei suoi ultimi post Instagram aveva sostenuto la battaglia per la libertà delle donne iraniane e ha affermato che quindi non era il momento di lasciare il paese. Mi a me, mi a me, mi a me.